Ciao, astronomersi! Voi sapete che puoi esplorare il cielo anche durante il giorno e in condizioni di luogo? Non sarebbe incredibile fare un'astronomia di radia reale usando tecnologie professionelle senza necessarmi specializzate? Questa è esattamente per cui abbiamo disegnato il radiotelescope Spider 230C, il nostro strumento più compatto con una antenna di diametre di 2.3 metri. È disegnato per lavorare semplicemente con la stessa monta equatoria che gli astronomi amatori usano già con i telescopi. Con usare la tua monta existente, puoi fare l'astronomia di radia reale in modo più affidabile rispetto a comprare un sistema di radiotelescope completo. La Spider 230C ha una antenna di diametre di 2.3 metri di diametre supportata da una struttura meccanica specialmente ingegnata. È compatibile con un monta equatoriale computerizzato che ha una capacità minima di 50 kg e una clampa di doppia di l'osmendi. L'antenna è perfettamente equilibrata, quindi non sono necessarie per il vostro monta. Tutto che è necessario è una monta con un ascom driver e abili controllo con l'inclusione Radio Universe Pro. Questo telescopio di radiotelescope è scoperto per capire le radiotelescope a 14-20 MHz con 50 MHz di banditura istantanea e dual-circular polarizzazione. Usa la stessa unità di radiotelescope H142 Pro, radioastronomi, feed e LNA che utilizziamo nei nostri radiotelescopi di radiotelescopi 3-metri e 5-metri. Questo significa che ottenerebbe accesso a tecnologie professionale a un punto di prezzo più affidabile. Tutto è gestito tramite Radio Universe Pro, l'unica soluzione che abbiamo sviluppato per i radiotelescopi di radiotelescopi di radiotelescopi. Questo rende capire e processare i vostri dati semplici e utile. Ovviamente, i radiotelescopi di radiotelescopi di radiotelescopi, come i modelli di radiotelescopi di 3-metri e di 5-metri, offrono un po' più grande, a causa delle antenne più grandi. Inoltre, perché i monti equatoriali non sono veri, non sono veri, la Spider 230C non può essere permanente installata in luogo, senza protezione, inoltre i modelli di Spider 300A e i 500A. Inoltre, la Spider 230C è più portabile e, da qualsiasi monti equatoriali sono basati di tripod, non hai bisogno di una fondazione concreta per installarlo. Questa portabilità rende la Spider 230C un'opzione eccellente per gli astronauti amatori che vogliono esplorare l'Università in una nuova velocità. Con questo telescopio puoi ricordare il spectra, detectare la linea di neutra, studiare l'effetto Doppler, creare amici di obiettivi di radiotelescopi. E puoi fare tutto questo, se il cielo è giusto o giusto, giorno o noto.